Partito! Nuovo appuntamento della Calabria Cherema. Nuovo appuntamento della Calabria Cherema. Continuano gli incontri. Proseguono gli incontri. La Calabria Cherema. Fammi guardare, però, guarda là. La Calabria Cherema. Nuovo incontro della Calabria Cherema. La scoperta di un passato che ha tanto da raccontare attraverso dei graditi ospiti, dopo aver parlato di Catanzaro Sotterranea, di Fondali Marini, ancora al centro di questo dibattito, la città...